E' sicuramente una nevicata straordinaria. A marzo inoltrato la neve è caduta abbondante nell'Astigiano e nel Monferrato. La circolazione è stata nonostante tutto discreta su tutte le autostrade e sulle provinciali, anche se la neve ha raggiunto almeno i 60 cm nelle langhe, mentre in pianura si è fermata a 30 cm. Su tutte le strade i mezzi antineve sono ancora in attività e si raccomanda la massima prudenza. Molte scuole nei paesi sono rimaste chiuse, ad Asti le lezioni si sono invece svolte regolarmente e a Canelli e a Nizza Monferrato in alcuni piccoli centri della provincia è già stato deciso che le scuole rimarranno chiuse. anche domani. E ieri ad Asti in tribunale a conclusione di una causa civile per diffamazione il giudice Laura Ceccon ha condannato Beppe Grillo al pagamento di 25.000 euro al sindaco di Asti Giorgio Galvanio. I fatti risalgono al novembre del 2003 quando al Teatro Alfieri nel contesto di uno spettacolo il comico genovese aveva insultato l'onorevole Giorgio Galvanio definendolo ladro ed avvelenatore della città con chiari riferimenti alla vicenda della discarica di Valle Manina. E sempre ieri ci sono state contestazioni, grida e schiamazzi in un'aula del tribunale sempre qui ad Asti nel corso di un processo per rapina. La richiesta di condanna dell'imputato formulata dalla pubblica accusa rappresentata dalla dottoressa Barbara Badellino è stata giudicata eccessiva dall'imputato, dai familiari e dai suoi amici. Vincenzo Azzarelli, 44 anni, commerciante di Asti, è accusato di aver rapinato nel marzo del 2008 il portafogli con 70 euro ad una paziente dell'ospedale Cardinal Massaia. L'uomo si è sempre dichiarato innocente anche se la vittima lo ha riconosciuto. Il pubblico ministero ha chiesto per il commerciante la condanna a 4 anni e 6 mesi di reclusione e 8 mesi alla moglie e ad un'amica che avrebbero cercato di creare un alibi all'imputato. Il giudice Cesare Proto, dopo aver richiamato più volte il pubblico, ha sospeso il processo fissando la prossima udienza per il 9 aprile. E nuova visita ieri nell'Astigiano da parte del candidato alla presidenza della regione, Roberto Cota, ha visitato una casa di riposo qui ad Asti e ha lanciato la proposta di non far pagare il dentista agli anziani. Sentiamo. Noi puntiamo molto sui servizi socioassistenziali e quando diciamo prima i nostri, diciamo che i nostri anziani per esempio hanno dei diritti e hanno dei diritti maggiori rispetto a chi magari ultimo che arriva meglio si accomoda. E' proprio per questo diciamo che nell'assegnazione delle case popolari debbono avere dei punti di vantaggio sicuramente. Nel mio programma elettorale io punto molto sul taglio agli sprechi per dare dei servizi aggiuntivi, per esempio le cure odontoiatriche che oggi non sono garantite dal servizio sanitario regionale ma che dovrebbero essere garantite, che devono essere garantite. Dare le cure odontoiatriche che vuol dire fare prevenzione e vuol dire anche assicurare la protesi a chi magari non può averla perché non ha le risorse, non ha i soldi. E per oggi qui dalla redazione di Asti è tutto, grazie come sempre per averci seguito alla linea attorno allo studio.